Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha incontrato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo una delegazione di alunni dell'Augusto Righi. L'istituto tecnico industriale ha vinto Zero Robotics, la competizione internazionale per la programmazione dei micro satelliti realizzati dall'MIT di Boston e situati all'interno della stazione spaziale internazionale. Grandissima è stata la soddisfazione per la vittoria di docenti e alunni che si sono confrontati con 160 scuole di tutto il mondo. Gli studenti napoletani che durante la competizione hanno dovuto gestire i movimenti di un satellite hanno dimostrato grandi capacità strategiche e conoscenze matematiche, fisiche e informatiche che vanno ben oltre quelle previste dai programmi di studio. Gli studenti sono stati accompagnati dalla preside Vittoria Rinaldi e dai docenti responsabili del progetto Ciro Melcarne e Salvatore Pelella. Grazie a tutti.